Educatori ed insegnanti artigiani che aiutano a far emergere la bellezza. Un'immagine potente, quella utilizzata da Alessandro Mele al convegno dedicato all'educazione come incontro con l'altro, organizzato dalla consulta diocesana per la pastorale scolastica. Mele, direttore di Cometa, realtà sociale nata a Como, che si occupa di minori e famiglia, ha descritto con lucidità la sfida educativa attuale. Ci sono dissolte le istituzioni, la famiglia, la chiesa, tutte le istituzioni che prima educavano. Oggi c'è internet, ci sono i pari, ci sono altri strumenti che vengono molto prima della scuola e della famiglia nell'educazione. Dobbiamo fare i conti con questo scenario molto cambiato. Possiamo vincere questa battaglia solo se rimaniamo radicati in questa bellezza, in questo desiderio di bellezza per cui il cuore dell'uomo è fatto, perché solo davanti a questo riusciamo a vincere con l'attrattiva tutte le resistenze che il mondo mette a questi ragazzi, cercando di renderli consumatori o di renderli, usarli per altri fini, ma difficilmente il mondo ti aiuta a diventare te stesso. Quindi noi dobbiamo attraverso la bellezza, perché noi siamo fatti per la bellezza, aiutare ciascuno a diventare se stesso. La riflessione di mele è stata accompagnata da tre testimonianze di esperienze educative. La casa famiglia della comunità Papa Giovanni XXIII, la casa di Dodi, nata dal desiderio di una maestra di aprire le porte di casa sua, e il centro Zavatta. La casa famiglia per me è significato tutto, nel senso la mia vita stessa, l'imparare a riconoscersi nelle diversità, nelle difficoltà, e poi a crescere in questo, nell'amore, nello stare con l'altro, e poi farlo diventare la tua vita. Perché si tratta di considerarsi fratelli e sorelle, indipendentemente dalla storia che hai, da quello che tu vivi, che tu sia figlio, generato nell'amore, che tu sia figlio naturale, e quindi stare insieme in quest'ottica bella che ho vissuto, con le difficoltà che mi ha richiesto. Infatti parliamo di queste, quali sono state le difficoltà. Immagino che adesso chiaramente tutto ti sia più chiaro, però immagino che in ogni fase di crescita qualche dubbio, qualche preoccupazione, tensione, chiamiamola come ti pare, e tu l'abbia avuto, no? Parlavi prima di come descrivere quello che i miei genitori facevano, non era così semplice. Beh, le difficoltà sono arrivate sicuramente dai momenti più semplici dell'infanzia, quando uno cresce deve andare a scuola, deve incontrare i propri amici, deve spiegare un po' quello che è la propria famiglia, e in questo, magari nel far notare la diversità quando non vuoi, quando magari ti vergogni, e dici ma perché io non sono come tutti gli altri bambini, magari ho dei fratelli un po' diversi, speciali, così, e invece poi dopo in questo imparare quanto fosse bello, quanto io in realtà dalla vergogna magari iniziale di quando ero bambino, poi diventare un orgoglioso di questo, no? e poi l'altra difficoltà è lo spiegare effettivamente agli altri questo, nel dire che il mio babbo e la mia mamma hanno accolto non solo noi come figli, ma anche altre persone che sono diventate miei fratelli, mie sorelle, e quindi tu, che sei il mio amico, ti chiedo di trattarli come se fossi io, insomma. Secondo te, senza incontro c'è, ci può essere educazione? No, perché l'incontro, l'educazione è la relazione con l'altro, è il centro e è la relazione, quindi se non avviene questo incontro, questo momento di unione fra le due persone, di intesa, di comprensione, di empatia, di riconoscersi, di guardarsi negli occhi, manca l'educarsi a vicenda, come si diceva stasera nel fatto di educare l'altro per educare se stessi. Vengono persone che per motivi personali, familiari o anche lavorative possono avere bisogno di un momento per prendere fiato. Se questo lo si può fare guardandosi negli occhi, aiutandosi, è un momento proprio bello e utile. Come avviene questo momento di pausa? Immagino che ci siano diverse persone con diverse difficoltà, diverse storie alle spalle. Certo, ognuno arriva con la sua storia e si fa i conti con quella storia che è solamente l'inizio di un percorso insieme, per cui se uno ha bisogno di cercare lavoro, lo si aiuta nel cercare lavoro, se uno è un migrante e ha bisogno di casa, lo si sostiene in questa necessità, aiutandolo poi a trovarsi una sua autonomia lavorativa, fino ad arrivare alla possibilità di andare avanti con le proprie gambe. Il lavoro è importantissimo, è il centro del nostro obiettivo. In poco tempo dobbiamo insegnare un mestiere, ma dobbiamo anche fare crescere l'uomo e dunque dobbiamo valorizzare tutti gli aspetti, le positività morali e affettive dei ragazzi, senza discriminare nessuno, facendo crescere tutti in maniera democratica, in maniera diciamo egualitaria. La scuola è sicuramente uno degli strumenti principali per l'educazione, soprattutto quando l'educazione parte dagli stessi insegnanti, perché chiaramente l'esempio parte dai docenti. Sì, è importante per i nostri docenti, i nostri educatori, comunque il discorso di trasmettere questo amore, questa tensione, questa passione, combattendo tutte quelle forme di bullismo, di razzismo, portando appunto come testimonianza la loro testimonianza, il loro lavoro è già una testimonianza, il loro impegno diventa un momento di crescita anche per i ragazzi. Questa sera possiamo dire che senza incontro non c'è educazione. Sì, no, è importante incontrare, essere accoglienti, dare la possibilità a tutti di imparare e di crescere e dunque quella è la base di partenza per un discorso più ampio ed educativo. Ecco, tu hai vissuto questa esperienza della Casa di Dodio, stai vivendo questa esperienza. Ecco, perché hai scelto questa casa e come ti sei trovato? No, praticamente io non l'ho scelto, era un'opportunità di andare a vivere lì e sono andato. Alla fine mi ha piaciuto molto e mi ha aiutato anche molto. Personalmente qual è l'esperienza e che cosa in qualche modo hai imparato da questa convivenza con tante persone, con persone che chiaramente alle spalle hanno anche tante storie diverse. L'esperienza ti aiuta anche a capire, cioè, non lo so, ti aiuta a vivere con delle persone che non siete in stessa cultura, stessa religione. Su queste cose a volte ti viene delle cose che a te non ti va o fai delle cose che non va a loro o loro ti fanno delle cose che non ti va e tu capisci che è una cosa che... e la diversità, cioè, a me mi piace molto la diversità perché ti aiuta molto nella vita. Quanto sono importanti per te la parola integrazione e in qualche modo anche stare insieme ad altre persone? Cioè, è una parola molto importante perché secondo me senza integrarsi in una società non puoi fare niente. e ognuno deve provare, soprattutto i migranti, dobbiamo provare ad integrarsi, ma anche i cittadini italiani dovranno aiutare i migranti ad integrarsi, sì. Mi è piaciuto che è un ambiente molto amichevole, che ti aiutano sempre, ti dicono come si fa, come no. Poi, cioè, tramite Zavatta ho trovato tanti amici. È un ambiente molto, cioè, amichevole, come hai detto prima, dai quelli che mi è piaciuto tanto. Amichevole sì, però comunque sarà anche un ambiente in cui chiaramente c'è la formazione anche professionale. Sì, bisogna studiare, però non è che ti stanno, sì, ti aiutano stessi, ti aiutano a studiare. Allora, è stata tutta un'esperienza nuova, diciamo, perché vengo da una cultura diversa, quindi sono entrato in questa scuola con una cultura nuova, diciamo, e poi entrare nel mondo del lavoro è quello che cercavo di fare, insomma, perché a questa età si deve decidere o andare a lavorare oppure continuare a studiare. In questo caso a me mi è venuto meglio andare a lavorare, quindi sono stato aiutato, diciamo. E cosa ti ha colpito di più di questa scuola? L'accoglienza e il modo di educare. Io ringrazio sempre i professori e tutto, quando li vedo li ringrazio sempre perché sono cresciuto, diciamo, da allora. Qual è stata la fatica più grande che hai dovuto affrontare? La fatica più grande è stata all'inizio che, come ho detto anche prima, non sapevo neanche una parola di italiano, quindi lì c'è stato un momento di fatica, però dopodiché, dopo 3-4 mesi, ho imparato a parlare, diciamo, e le fatiche sono sparite, diciamo. Bene, allora grazie. Grazie mille. Grazie mille.